sapete cosa dice il signore ancora nella sua parola gesù cristo dice cari ascoltate gesù cristo dice io sono la luce del mondo è scritto qui nel vangelo di giovanni capitolo 8 io sono Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Io sono la luce del mondo, dice Gesù Cristo. Gesù è la luce che ci illumina. Non vivere lontano da Lui. Se tu vivi lontano da Lui, stai camminando nelle tenebre, nell'oscurità. Sapete cos'è l'oscurità? L'oscurità è il mondo di peccato. L'oscurità è vivere lontano da Dio, l'incredulità, la ribellione. E quando gli uomini vivono nel buio, non sanno dove vanno. Non sanno dove vanno. Oggi quante persone non sanno dove andranno dopo la morte. Se io fermassi qualcuno qui e li tenessi, scusa, dopo la morte dove andrai? Dove andrai dopo la morte? Molti direbbero, ma io non lo so. Non mi interessa. Altri direbbero, come tanti dicono, io vado nella tomba. Cari, il corpo va nella tomba, ma l'anima dove va? Dove andrai dopo la morte? Dove passerai l'eternità? Dove andrai in cielo o all'inferno? Dove andrai? Col Signore o nel buio, nelle tenebre? Dove andrai? Questo è la cosa più importante della nostra vita. Avere la salvezza, gloria a Dio, avere la vita eterna. Avere la salvezza, gloria a Dio, avere la vita eterna. Avere la salvezza, gloria a Dio, avere la vita eterna.